Musica Ho aspettato tutto il giorno solo questo momento Dujan Vlaovic è ufficialmente UFFICIALMENTE Un calciatore della Juventus Il contratto del calciatore è stato depositato in Lega Sono sul sito della Serie A Dujan Vlaovic alla Juventus dalla Fiorentina A titolo definitivo in data 28-1-2022 Dujan Vlaovic ha firmato il contratto Non c'è ancora il tweet della Juve Non c'è ancora niente neanche sul sito della Juve Ma in Lega questa cosa c'è Dobbiamo esserne contenti Dobbiamo esserne orgogliosi Avevo il microfono spento tra l'altro In tutto ciò Ma ora il microfono è attivo Dicevo che volevo Anche in realtà annunciarvi il numero di maglia Magari vediamo se Arriva qualche novità Nel mentre che registriamo il video Ma come vi dicevo Non dovrebbe essere il 28 Attenzione non dovrebbe essere il 28 Poi magari sarà così Io ipotizzo il numero 7 Perché dico questo? Perché Alvaro Morata tra l'altro Potrebbe non muoversi dalla Juve Ancora non c'è l'accordo Tra Atletico Madrid e Barcellona La Juventus dovrebbe O giustamente I 5 milioni che aveva già speso A inizio mercato Per il prestito di Morata E quindi se l'Atletico Non trova l'incastro Col Barcellona Con l'obbligo di riscatto Alvaro non parte Non libera il numero 9 E Dujan potrebbe comunque Non opzionare il 28 Numero del suo trasferimento Alla Juventus Del giorno del suo trasferimento Alla Juventus Vecchio numero che aveva la Firenze E giorno del suo compleanno Quindi oggi Tra l'altro Sky Sport Comunica che Avrebbe firmato Il contratto In presenza di Andrea Agnelli Che gli avrebbe fatto Anche gli auguri Di compleanno Quindi va Questa voce un po' Incastrarsi Con quella della torta Di cui abbiamo parlato oggi Ora vedremo quale delle due Sarà ufficiale Quella veritiera Quella che si è verificata davvero Ci sono già I primi effetti Vlaovic E vi voglio raccontare Di quello che mi è capitato oggi Prima di tutto Però voglio raccontarvi Anche cose Al di fuori di Vlaovic Perché il mercato Della Juventus Non è finito qua Potrebbe non essere finito qua Aston Villa Bentancur L'Aston Villa Ha aumentato l'offerta La Juventus Ci sta pensando Ancora C'è sempre quel discorso Legato alla clausola Di tot per cento Di milioni Che la Juventus Dovrebbe versare All'Aston Villa Ormai mancano Diciamo due giorni Due giorni Un po' Al termine del calciomercato 48 e rotte ore Quindi Siamo vicini Al termine Alla conclusione Di questa sessione Vediamo Che cosa riuscirà Incastrare la Juve Io sono tranquillissimo Sono fiero Adesso che abbiamo Aggiunto alla Lega Il contratto Di Vlaovic firmato Sono già Veramente A postissimo Non mi interessa Nemmeno L'ufficialità Della Juve Perché è importante E sufficiente Quello della Lega Quello della Juve Sarà Bello da vedere Per capire un po' Le opzioni Magari ne parleremo Domani Nel video di domani E vi dico Anche un'altra cosa Oggi qualcuno mi ha detto Guarda io Sono libero Di fare come voglio Posso non essere soddisfatto Contento Di acquisto di Vlaovic Assolutamente sì Liberi di fare come volete Io lo ritengo Un modo non idoneo Nel senso Per quanto mi riguarda Sempre è la mia posizione Poi non libero Di fare quello che vuole Qualcuno invece È andato più nello specifico Sono contento Dell'acquisto di Vlaovic Ma non del contesto Juventus Beh questa può essere Una chiave di lettura Se non si ha fiducia Nell'allenatore Penso che non ci sia problemi A dire questa cosa qua Quindi ci sta Questa è una presa di posizione Un'idea Un pensiero Diverso Dal mio Io sono convinto Che la Juventus Allegri con Vlaovic Potrà fare molto bene Un augurio Ma anche una sensazione Una percezione Però Ripetisco Questa è la mia È giusto che Tanti possano avere la diversa Io non capisco come Si possa non essere Invece felice Dell'arrivo di Vlaovic Al di là dell'allenatore Ecco Questo proprio Dell'arrivo di Vlaovic Vero e proprio Vediamo Io Di natura sono ottimista Ma poi Il calciatore è forte La Juventus È in ripresa In crescita Io non ho Particolari dubbi Su Allegri Di per sé Certo che in questa stagione Invece Stiamo andando male Secondo me Uno dei motivi Era proprio L'assenza Di un giocatore Importante D'area di rigore Vediamo se Perché Per quanto mi riguarda In questo momento Allegri Non ha più scuse Scuse ovviamente Sempre tra virgolette Ma Non ci sono più giustificazioni Ma per quello che penso io Io l'ho sempre detto Secondo me Alla Juve manca Soprattutto quello Il finalizzatore Il bomber E adesso sta l'allenatore Sta il lavoro Sta la squadra Ricordatevi sempre Che il calcio Per uno sport di squadra Sono 11 giocatori Più i subentrati Più il gruppo E tutta questa roba insieme Non è solo uno Che cambia la squadra Però le caratteristiche Di Vlaovic Sono importanti E secondo me Mancavano nella Juve E ci darà Quel qualcosa in più Per cercare Di concludere al meglio Questa stagione Abbiamo parlato di Bentancur Vi parlo anche di Kuluseski Perché nella giornata di oggi Conte paratici da Londra Sponda Tottenham Avrebbero richiesto Kuluseski e la Juve La Juventus avrebbe Anche detto Guardate Non è un problema Può essere un'uscita Ma una condizione Ve lo diamo pure in prestito Ma con obbligo di riscatto Intorno ai 40 milioni Ci si sta pensando Il Tottenham potrebbe essere Anche aperto a questa opzione E dato che Morata Potrebbe invece rimanere Ecco che Kuluseski Potrebbe essere L'accessione Nel reparto offensivo Quindi attenzione Che potrebbe essere Questa l'uscita Paratici innamorato Di Kuluseski Sin dai tempi del Parma Ce lo va a prendere Lo inserisce Nell'organico Juve Potrebbe Andarlo a inserire Nell'organico Tottenham Di ripartenza Di rinascita Secondo Antonio Conte Mi viene un po' strano Pensare a Kuluseski Sì al Tottenham Comunque Conte Che lo voleva anche A tempi dell'Inter Però dove lo vanno a mettere Dovrebbero giocare Col 3-5-2 O 3-4-3 Conte si gioca Col 3-4-3 Hanno anche Son Eventualmente La inserire In un tridente Vediamo Sono un po' Sorpreso In realtà Dall'opzione Tottenham Però È ovvio Che poi Conte Ha sempre il 3-4-3 Come opzione O comunque può Cambiare Andare su un altro modulo Anche se Lo standard di Conte È il 3-5-2 Anche col Chelsea Abbiamo già visto Col 3-4-2-1 Quindi ci può stare Non mi aspettavo Il Tottenham Tra i nomi Devo essere sincero E poi vi parlavo Dell'effetto Vlaovic Intanto Parliamo di Vlaovic A giorno Per vedere Se c'è una novità Sul numero No Non c'è Non c'è Porca vacca Non c'è E vabbè Aspettiamo Vediamo Cerchiamo di capire Voglio anche il vostro Tottenham Qui sotto Qui sotto Nei commenti Vi dicevo Effetto Vlaovic Oggi sono stato ospite A OCV Sport E c'erano Tanti altri ospiti Ora Non faccio i nomi Anche per rispetto Però Visibilmente Anti-Giuventini E questa cosa Un pochino Ho visto che inizia A dar fastidio Perché Io Mi sono ritrovato a dire Che La Juventus Secondo me Non ha una rosa Migliore Rispetto a quella dell'Inter Che la rosa dell'Inter È più ampia Più qualitativa È migliore Della rosa Della Juve di oggi E mi hanno riso in faccia Dicendomi Eh no Però ad agosto Si diceva che Sì ma chi se ne frega Io Ho sempre detto Che con Ronaldo La Juventus Andava a sopperire Delle mancanze Tecniche all'interno Di una rosa Che comunque Anche senza Ronaldo Dovrebbe entrare Comunque almeno Nelle prime quattro E mi hanno riso in faccia Ancora Dicendo Eh no però La Juve è la rosa Migliore dell'Inter Anche senza Ronaldo Quando si ride in faccia La gente a me Dà sempre un po' fastidio Quindi poi Reagisco di conseguenza Mi hanno reso in faccia Anche perché io Comunque Non l'ho mai detta Quella roba Eh no Tutti dicevano Sì ma tutti A me non mi frega niente Quello che dicano tutti Se stai parlando con me Ti riferisci a quello Che penso io E se non hai seguito Quello che pensavo io Accetti il fatto che Ti stia dicendo che è così Sono esploso Quando mi hanno detto Eh no Perché uno come Allegri Che preferisce Rugani ad Elite Ho detto prego Eh sì perché Nell'ultima partita Di Serie A Col Milan Ha giocato Rugani In un Elite Aveva una gastrointerite Del giorno prima Eh no È una giustificazione Eh vabbè Una giustificazione Ma queste sono ancora cose Che non c'entra niente Con Vlaovic Le cose su Vlaovic Sono iniziate Quando è stato chiesto A questi due giornalisti Qual era il preferito Tra Vlaovic e Scamacca Devi scegliere uno Quale prendi Giri di parole Incredibili Per arrivare a dire Che Uno Vabbè Sono lì Quasi forti Uguali Prendo Vlaovic Perché è mancino Mi piacciono i mancini Non perché è più forte Di Scamacca Di oggi Poi Grande rispetto Per Scamacca Diventerà sicuramente Un gran calciatore Ce lo sta facendo vedere Anche oggi Ma stiamo davvero Commettendo Sullo stesso piano Scamacca e Vlaovic Di oggi Quello che Può succedere Sulla crescita Lo vedremo Non siamo indovini Ma Stiamo davvero Paragonando Ad oggi Scamacca e Vlaovic Dicendo Preferisco Vlaovic Solo perché mancino Va bene Un altro Invece mi ha detto Che in realtà È no Perché Scamacca Sembra Il Vieri Sconosciuto Che va alla Juve Che ancora Non si intende Nessuno Di quello che potesse Di che potrà diventare Vieri E quindi Meglio Scamacca Nonostante I numeri di Vlaovic Però sai Scamacca è quel giocatore Che si porta via Le difese Ma stiamo scherzando? Allora Oggi mi sono un po' Adirato Di fronte a tutte queste Considerazioni Palesemente Anti-Juventine In realtà Pensandoci Adesso Un po' godicchio Un po' godicchio Perché siamo già In quella fase In cui Vlaovic Eh vabbè Però è come Piontek Perché anche questo Ho sentito oggi Eh vabbè Anche Piontek Ha fatto Però Scamacca Può essere come Vieri Vlaovic Come Piontek Ok Stiamo parlando Solo del giocatore Non del contesto Non dell'allenatore Del giocatore Vlaovic Come Piontek Scamacca Come Vieri Però Meglio Vlaovic Perché è mancino Addirittura Mi è stato detto E però Però anche Milito L'anno del triplete Non aveva mai giocato In Champions Quando Sempre della discussione Dicevo La rosa della Juve Non è come quella dell'Inter Al che mi hanno detto Eh no Con Morata dovresti vincere i campionati Sì però Morata Non è mai andato Oltre gli 11-12 gol In Serie A Eh però anche Milito Non aveva mai giocato In Champions Quando abbiamo vinto il triplete Ci siamo arrivati a comparare Morata e Milito Che è anche qua Però va bene Cioè Sono tutte cose Che più ci penso In questo momento E più sono contento Perché veramente Certe persone Si vede che non si aspettavano Veramente non se l'aspettavano L'arrivo di Vlaovic E questo mi dà ancora più energia Ci vediamo domani Sperando di parlare di altre cose Inerenti al calcio mercato Dato che questa L'abbiamo conclusa In maniera imprevedibile E che sta già avendo Degli effetti Collaterali Sia lato mercato Quindi uscita di uno Tra Morata e Kuluseschi Più probabile Kuluseschi Sia con alcune opinioni Che qualche settimana fa Vlaovic È nuovo Battistuta Sembra Adriano E invece oggi magicamente È uno come tanti Può essere un po' pionte Può essere un po' sopravvalutato E vediamo Dove andiamo a finire Un abbraccio ragazzi Buon venerdì sera Io stasera vado a mangiare il sushi